Allora questa mattina sono sbarcate da nave Florenza 48 persone, 48 naufraghi che erano sull'Euroferri Olimpia e per fortuna almeno da quello che ho potuto appurare io anche in ottime condizioni è stato un vero piacere poterli riabbracciare e salutare soprattutto i nostri connazionali ma tutti quanti perché l'esperienza che hanno vissuto è sicuramente un'esperienza molto significativa, difficile ed importante. Per quello che so io rientreranno presso le loro abitazioni, potranno così anche finalmente riabbracciare i loro cari e raccontare questa disavventura che però ha avuto un lieto fine. Grazie 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 Grazie